Ho lasciato la mia... Tu sei il birello qui, dalla scuola elementare. Sì, è vero perché pensavo che fossero otto vuoti i nostri ragazzini. Quando ho visto chiedere un ragazzo di colore, e non era più un ragazzo nostro, un ragazzo neutro di quest'anno. Sì, sì. Allora? E allora, non si veniva più caldo per bloccare, non riuscivo a bloccare perché questo ragazzo è entrato in crisi perché l'hanno, gli ho reso proprio le compagnie. Quando è iniziato questo sfottopo? Alle 8.25. Ma anche nei giorni precedenti? E questo non posso dire. Io sono andato stamattina perché ho visto che è stato coinvolto con un ufficio che riesce a fare di difendere. Poi siamo interviati alcuni genitori e riuscite a difendere perché stanno diventando, non ho sempre preso a botte veramente da ora. Ma soltanto uno contro uno comunque? Non hanno partecipato altri ragazzi? Non hanno partecipato, sai come fanno a Bordorrigo e fanno gli altri. Sanno incitare i ragazzi. Sei stato tu a chiamare i carabinieri? No, no. Anzi, più che altro volevo chiamare i carabinieri. Tanto perché è la magia di calmarlo, perché ormai è andato in crisi nervosa. È la prima volta che è successo un episodio del gen, nell'ultimo periodo? Qui sì, qui adesso è da molto che non succedeva. Adesso è da molto che non succedeva. Grazie. 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 Grazie.